La ragazza Dopo il suo avvicinamento a Javier, ha un momento di cedimento e scoppia in lacrime divorata dalla pressione che sta avendo nel momento Shaila si chiude in camera e si sfoga con Ilaria, Elena e Pamela Shaila ha provato ad accelerare la situazione con Javier ma ha chiaramente capito che il ragazzo al momento ha tempi diversi, non è colpa sua, è il suo tempo e io non posso pretendere La giovane però ha paura di ferire il ragazzo e non sa come comportarsi. È come se io avessi un problema, mi sto mettendo io in discussione, magari sono troppo Non mi fa stare bene questa cosa, ci sto male, è possibile che mi succede sempre questa cosa? Che problema ho? Mi dispiacerebbe, se anche per un secondo, io l'abbia fatto sentire inadeguato Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Grazie a tutti.